Musica 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 Benvenuti nel mio canale e nel rotusco render Siamo all'episodio numero 9 Penso che sia il numero 9 Se vado errato o meno Siamo su ijacket in postazione internazionale Ora ragazzi cosa importante Penso di aver trovato la soluzione Al problema del mio lag Lasciamo perdere le 3 attacche Iniziamo E praticamente è successo Che adesso ho messo il chiavo Ho attaccato il chiavo ethernet alla mia Playstation E E vabbè sono un po' distratto ragazzi Fate conto che mi sono appena svegliato Poi la prima partita insomma le mie solite menate E praticamente È successo che Ho cominciato a usare il chiavo ethernet Nella Basta E sembra che la connessione vada meglio Cioè ieri ad esempio Sono riuscito a giocare Più di un'ora con 4 attacche Il guardian di merda Madonna che schifo che fai bomber E quindi speriamo che sia tutto finito ragazzi L'incubo del mio lag è Speriamo che sia finito anche se in questa partita qua Non è di certo una bella sensazione Vabbè che comunque ci sono tre attacche Sei a posto Via Via No cos'è sta pistolina Ricarica via Andiamo su di qua ragazzi Siamo in postazione Tipo a reddere la collina Vabbè io comunque sono già entrato in una partita già cominciata Quindi comunque sia ragazzi La partita è stata questa Come potete aver visto Perchè Come nell'ultimo episodio Non posso farlo lunghissimo ragazzi Perchè vi dico Sono le 11 del mattino E fra Fra un'ora esatta Io devo essere il reparto a lavorare Quindi Devo riuscire a registrare Renderizzare E convertirlo E caricarlo su youtube ragazzi E' una cosa impossibile E' un'impresa per gabo di squadre con i signori Io faccio questa partita qua Quindi speriamo che sia comunque una partita abbastanza lunga Non so 10 minuti Quarta d'ora E poi ragazzi Io vi devo congedare Perchè veramente Dopo diventa Un casino per me Sono sempre di corsa Sempre di fretta ragazzi E' E' veramente impressionante Il ritmo della mia vita in questi giorni qua Ehm Siamo qua abbiamo un piece Ho cambiato l'host intanto E quindi Si presume che dopo ci sia Una bella connessione Ehm Speriamo Questo qua è un chiusino Dread Hellshot Dread questa è per te Mi sa sai Ehm 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 Dread pure questo Minchia Dread Ci vogliono uccidere tutti qua Questo è il Paris Saint Germain Il mio emblema è più scamo da ragazzi Ehm Cambio Ops 2 per Monopoly Ehm Oh mi sei il numero 1 Regalo Regalo Cod Black Ops 2 Più 20 euros XD Ah Fai ridere intanto però sei il preciso 5 Coglione Mamma mia Ah Nei denti proprio Sbam 3 minuti e mezzo ragazzi Gabo di squadra Comunque sono contento ragazzi Dei Riscontri che ho avuto nelle Negli ultimi Lotto squadra perché Sono più me stesso signori Insomma Sono un po' più Libero Senza pensare troppo ai risultati Insomma Cercare sempre solo il divertimento In più ragazzi Pensate Gabo di squadra cosa ha fatto per voi Ha registrato un episodio di Battlefield 3 Però non gli è piaciuto Però cosa ha fatto? Siccome c'è un secondo canale Lo mette sul secondo canale Ed è già app sul secondo canale Il problema è che Ce l'ho privato Si dovrebbe pubblicare domani a mezzogiorno ragazzi E in più domenica Giusto per essere contenti Like Domenica C'è una bella partita su Black Ops 2 In gioco delle armi Quindi ragazzi Tanti video per voi Spero che vi piacciono un po' tutti Quello non muore Ostia Gheta Ostia Quello un camperino Madonna ragazzi Connessione Fa giù la proprio sta partita Yeah Mori No mica muore però Mica muore Io sono be Comunque ragazzi veramente Ieri sono andato nel negozio di gatto Che è il mio amico E ho avuto l'onore di giocare con la NGI Ed è una cosa fenomenale Veramente io Penso di non aver mai giocato con una connessione così È stato veramente spettacolare Mori Ostia Ma perché Veramente spettacolare ragazzi Avevo sempre quattro attacche fisse Tutte partite da 30 uccisioni sotto le 10 morti È veramente una gran cosa ragazzi Veramente Però qua davvero a parte di scherzi ragazzi Che dove vengono ma questi? Dai che sta accecante Che occhia Ricarica in fretta Madonna mia schifoso Schifosa Catturiamo No 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 È il camperino di là Basta usciamo questo Il type Type 25 ragazzi Sta giù Ascia il pitch Zucchia Sì ragazzi Quando a Gabbo di square c'ha quattro attacche Guardate Guardate Quando a Gabbo di square c'ha quattro attacche Guarda che schifo Fai schifo C'è un camperone di merda Bomber Quanto fai schifo zio Andiamo andiamo Ah zio Guarda ce l'hai messa Vieni qua Maggiucciami la banana Dio santo Sono troppo a guardare la connessione Io ogni volta che muoio Guardo le attacche che ho Eccolo Il chocobar Io santo Dai riga Dai Con questa bandiera Si con la bandiera Adesso vi aspetto tutti qua Bastardi Yeah yeah Si Metti la mina Bastardo Ci sono io qua Dietro Ah che udito ragazzi Carica e fretta Eccolo E' sempre così in sto gioco Ne fai fuori uno Ne fai fuori due Ragazzi io volevo chiedermi una cosa Io so che prestigiando Si possa sbloccare dei punti no? Io con quei punti lì ho sbloccato La N94 Ehm Io però Nel prossimo giro Vorrei sbloccare Il fantasma Perché giocando con fantasma Ragazzi Madonna mia che schifoso Ma muovetevi un po' Ste massetti in due Giocando con fantasma ragazzi Si diminuiranno molto il numero di morti Si vabbè ragazzi Ehm Arrivo alle 13 e un quarto Mio padre Mio bomberissimo Non si ricorda che Devo andare via tra poco Ehm Andiamo di qua Ehm Quindi ragazzi Vi stavo chiedendo Se quei punti prestigio Si possono Si possono sbloccare Tipo i bonus Tipo fantasma O Cazzate varie Perché fantasma lo sbloccherò sicuramente Yaaah Ricarica giustamente Dai O è davanti O è dietro O è destra O è sinistra Tutte le volte che sto sparando a uno Non mi fanno mai fare un uccisione Di santa pace Dio santo Oh Ehm Francicchi In bocca a bocca Muori Ma basta Basta Bastia Yaa Muori Yaa Ricarica e fretta Che cazzo fa sto scemo qui Ricarica e fretta Dove siete? Vi faccio il culo a tutti Dai dov'è sto guardia qua? Dio santo Contesa? Da chi? Eccolo Ricarica 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 Attenzione Ragazzi Ragazzi Ecco Grazie Ciò Chiara via Aia Mi hanno detto che ci tengo i risultati Ragazzi ma che cazzo me ne frega Mi portate che comunque sia almeno faccio un livello a partita Perché se no ragazzi Ha 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 Basta Il giro è distrutto ragazzi E' messa a bc La mia arma L'arma preferita Ah Ma è più forte del gioco e poi del resto Lancia Bravissimo Ah c'ha il bitch Colpo fulminante di Chocobar Dov'è? Ma dove siete? Mori Oh Bomberissimo Ancora BASTA Sto Chocobar Ma ha rotto il cazzo Guardalo Fai cagare la minchia Bomber Te lo giuro zio C'era 41 bitch Guarda qua Ecco Arriva il fenomeno Una kill ragazzi Dai ma 17-28 Regà ma che cazzo è? Come mi avete insegnato voi ragazzi? Non pensare troppo al risultato Poi dopo mi porta a sbagliare Mi pare che sono arrivato primo della mia squadra signori Dio boi di che prestigio era sta qua? Madonna mia Signori io vi devo salutare E' già durato veramente tanto questo live E veramente non so se riesco a fare tutto Cioè renderizzare e caricare Perché ragazzi fra mezz'ora devo andare via Quindi io vi saluto ragazzi A domani sul secondo canale con Battlefield 3 E a domenica sul primo canale con Black Ops 2 Ostia Black Ops Ostia Di via Un muore Grazie.